La partita di Lecce è una partita importantissima, quella contro il Clugi diventa una partita fondamentale. Per noi, per la posizione che abbiamo ancora in campionato, tutte le partite del campionato sono importantissime, quelle due di Champions, fondamentali. Io penso che sia tutto abbastanza semplice, che la società vuol tenere il ragazzo e che il ragazzo per quello che ha fatto vedere vuol rimanere qui. Poi è chiaro che si dovranno mettere a sedere, però per quello che ho visto da parte di tutte e due c'è l'intenzione di mettere a posto questa situazione e non c'è solo Aquilani che deve rifare il contratto, ce ne sono anche altri. Un grosso problema non lo vedo per quelle che sono le cose che so dall'interno. Poi è chiaro che però il contratto deve essere stipulato e ci sta che ci siano poi dei punti di vista che vanno un pochettino limati sotto questo aspetto. Io Sassolini non ho da toglierne nessuno. Però tutte le volte mi dite questo, probabilmente voi sapete che qualcuno mi ci aveva buttato nelle scarpe, non lo so, tutte le volte mi dite così. Io ho visto, come ho già detto prima, andando a ringraziare i ragazzi, quale comportamento abbiano avuto in un momento di difficoltà come questo. Però è chiaro che poi bisogna continuare a fare i risultati perché la nostra classifica vuole quello. Quando parlo di organizzazione noi siamo dietro tante squadre e abbiamo mezzi superiori a queste squadre a cui siamo dietro e probabilmente loro sono andati poi ad operarsi in una maniera corretta e hanno avuto dei vantaggi. Lecce, soprattutto non in Mila, ha fatto una buonissima partita, ha perso l'ultima contro la Sampdoria, però ha fatto vedere poi che riesce a segnare facendo due gol, ha fatto vedere poi di essere una squadra tosta. Allenata benissimo perché io Beretta lo conosco molto bene da quando allenava al Siena. L'ho mandata anche a vedere, è un allenatore molto preparato, giovane, ha delle idee e che sicuramente sarà riuscito a trasferire anche alla squadra attuale. Lecce che c'è davanti in classifica.